e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su layers of fear gioco dell'anno ragazzi maizuna che gioco l'ultima puntata vi ho lasciato un po' in suspense con l'apertura di questa porta andiamo a vedere cosa c'è wrecked oh siamo ritornati nello studio ma cambia ogni volta lo studio che c'è scritto way to fail e se fallissi bella domanda se falliamo spesso spesso qua si può interagire e ovviamente non c'è nulla tutto distrutto tutto sbombolato spesso spesso qua c'è scritto ok la boccettina di sangue queste sono tutte le cose che stiamo trovando in giro e le sta mettendo come trofei leggiamo un attimo per prima cosa ok questa abbiamo letto prima mi servivano un barattolo un tubetto di plastica avevo travasato benzina in passato quindi sapevo come funzionava ho inserito il tubicino in una vena e cominciato a succhiare fino a quando il sangue non mi ha riempito la bocca poi ho messo il tubetto nel barattolo e ha continuato a fluire il sapore di rama mi ha perseguitato per tutta la notte perché non avevo pensato una silinga ok quindi le cose che stiamo trovando noi le dobbiamo mettere qua nel quadro adesso l'osso penso ok inseriamo l'osso nel quadro e cambia di nuovo forma sta prendendo forma adesso sembra un demone non lo so dunque non riesco a muovermi che devo fa ok vabbè allora abbiamo messo anche l'osso aspetta si è aperta qua una porta eccolo l'osso eccolo eccolo qua cosa dice dovevo staccarla dalla carne al delà ok quello che c'è scritto prima quindi dobbiamo riempire ancora questi gli oggetti 1 2 e 3 penso penso proprio di sì e poi vediamo cosa esce fuori dal quadro comunque qua inutile che apro c'è sempre la stessa cosa vabbè andiamo avanti vediamo dove ci conduce adesso questa porta di sicuro non in posti belli finora tutte le porte oddio 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 chi è chi va la oh no 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 eh dove è andata oddio brutte stanze strani disegni qua i figli ha una figlia è una bambina questa quindi lui ha una figlia questo è il papà e questo è la gamba di legno non c'è vabbè però penso che sia abbia una figlia dai queste immagini ce lo dimostrano chiaramente ora altri muri muro aia c'è scritto qua delirius delirio dissennato ma tu una qua egoista oddio sono le porte del nostro cervello queste oi perché non me l'ha fatta aprire questa eh vabbè ma sta succedendo qualcosa sono cambiate anche i disegni wow 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 oddio sparita la porta ok sparite tutte le porte no è spuntata sta porta chi va la oh oddio what the hell bro andiamo via andiamo via da qua qua mi sbigliano no non è giusto prova ancora come non è giusto mamma mia era molto severo con sua figlia presumo che era sua figlia perché dei disegni sembrava una bambina era molto severo con sua figlia infatti oh oh hola ula 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 che fa questo orsacchiotto qua uo uo attenzione ula ula ciao orsacchiotto è possibile passare aspetta hey what is that wait what day is it it's sunday you mean i oh well why didn't you come get me god damn it you know how i get when i'm caught up in my work allora happy first birthday quindi la figlia presumibilmente a cinque anni ok stiamo venendo a capo di tutto pian piano eh frecce oh ratto frecce ratto manca solo il rect siamo tutti andiamo qua niente i cassetti comunque finora non ah no ogni tanto qualcosa si trova cos'è sta roba un disegno no è la moglie incinta questa c'è il pancione vediamo l'ultimo cassetto i bambini i bambini nel matrimonio guida al matrimonio aspettare l'inaspettato la magia quotidiana della genitorialità il nuovo libro di molly pierce ok è un libro direct ci interessa questa porta è chiusa mi diverto con lo zoom ora chiusa abbiamo solo una via questa qua cosa c'è qua un fiocco e da i quadri ci guardano sempre ragazzi oh oh è cambiato aia gamba di legno questo è cascato oh ma quanta roba hai comprato sono le scarpette queste non sai neanche se sarà maschietta o femminuccia qua intanto sarà cambiato qualcosa quindi cioè io sto presumendo che sia una femminuccia eh perché dai disegni comunque non lo so andiamo a vedere e ovviamente è cambiato tutto di nuovo chi è quello la che ha disegnato bruzzo oh ta hell bro mi fa prendere sti colpi perché mai zene vabbè non sbircio più non sbircio più mi sa che non vuole che sbirciamo nelle sue cose la bambina non è che è la bambina che è maledetta qua ecco che si ripiange oddio aspettate eh qua dobbiamo controllare qua ah vuole fare una partita a dama si può giocare a dama no mi sa che non vuole non vuole giocare a dama partiamo dall'ultimo cassetto eccola eh sparita a pedina vabbè mi scusi non volevo andiamo qua qua non c'è niente qualcuno che piange eccola sparita di nuovo qua cosa c'è abbiamo trovato due pedine il cuore batte veramente guarda che roba maizuni chi è che piange non possiamo interagire abbiamo i cassetti no niente abbiamo trovato due pedine della dama ora andiamo di là scopriremo insieme chi sta piangendo eh non piange più ma qua ragazzi questa roba un passaggio whatta guarda che roba con le sedie oddio qua dal rumore della musichetta non sta per arrivare nulla di buono ve lo dico lo zio ve lo dice che non sta arrivando nulla di buono tra i cespugli di mirtilli e il verde ruscello ok qua sono tutti i vari giochi ma non c'è niente che ci interessa guarda di qua si può andare andiamo a vedere di là dove ci sono le sedie sbombolate va 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 oddio what the hell man no rekt no come rekt rekt no oddio dove siamo finiti ci ha fatto rekt ci ha fatto rekt oddio raga c'è una brutta signora anche sulle layers of fear c'è una brutta signora i quadri guardano sempre male ma i seni allora qua c'è scritto qua parlano alle nostre spalle mmmm chi è che parla alle nostre spalle allora qua non c'è niente da interagire qua c'è il disastro per terra guarda regà ma i suoni andiamo va biblioteca con strani disegni dappertutto pennarelli nostra figlia ha fatto il disastro ha disegnato un po' dappertutto allora l'orsacchiotto balù non si può prendere andiamo avanti ecco e ora c'è il loop delle stanze qua dobbiamo fare qualcosa sicuramente regà tazzina ma non possiamo interagire proviamo a riandare avanti oh oddio stanza svolazzante qua eh iniziano a svolazzare gli oggetti l'orsacchiotto sta andando andiamo avanti qua cosa abbiamo? qua non svolazza chiuso ecco fine della corsa what the hell maizonna oddio raga sto gioco inizia a diventare veramente 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 pauroso eh ve lo dico oh finalmente andiamo via dalla stanza maledetta qua c'è qua che lucica sbrillucicando non posso interagire con questa cosa qua non so cos'è ok allora cerchiamo qualcosa di utile ecco bambole sbombolate mi sono messe queste bambole mi sono messe queste bambole un attimo qua c'è un tavolino che non mi fa passare maizioni altre bambole sbombolate ma non vorrei che chiude le porte oh eccola la bambola l'unica seduta salve non mi faccia prendere paura per favore oh no non posso interagire con questa bambola meno male oh 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 regà le bambole sono spostate qua si è aggiunta questa non c'era prima quella lassù pure beh io me ne vado è stato bello è stato bello conoscervi eh voleri andare eh mo qua le bambole prevedo un rect senta signora che dobbiamo fare qua cambia di nuovo allora cerchiamo di ragionare regà le bambole io non le posso toccare cioè non posso interagire o le devo chiudere chiudi no non si chiude che mai ce n'è oh sei arrabbiato non volevo distruggere la sua bambola non volevo non volevo non volevo chiedo perdono che sta succedendo oh ragazzi no 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 oddio guardate là si sta attendo ma vabbè dove sono finita le bambole chi è? mamma mia che gioco inquietante molto inquietante oddio chi va là? eccole tutte le bambole sono finite oddio guardate questo cazzate nero oddio ha sbattuto la testa oddio è un labirinto anche questo è un lupo ma se continui a sbattere la testa ti ammazzi prima o poi o è già morta mi sa che è già morta oh get wrecked oddio sentite che musichetta maduna madina oh salve lei chi è? oh mio dio raga chi è là? è là? serve aiuto? oddio oddio what the hell bro dove siamo? raga maizze siamo ritornati guarda la stanza raga spero che questo nuovo episodio vi sia piaciuto ma raga che serie è questa raga? maizze in a years of fear qua è il terrore il terrore puro ragazzi puro terrore uuuu bellissimo bellissimo mi sta piacendo un sacco questo gioco raga fatevi sapere nei commenti se vi sta piacendo sempre di più a me si leo io vedo come va a finire perché assolutamente curioso lasciate tanti bei like lasciate tanti commenti e noi come sempre ci becchiamo al prossimo terrore terrore grazie a tutti grazie a tutti